Terza gara in una settimana e seconda trasferta consecutiva per l'FC Matese, che domani sarà di scena allo stadio Pavone e Mariani di Pineto. Contro il notaresco nel recupero dell'ottavo turno, disputatosi solo tre giorni fa, la compagine di Piedimonte ha rimediato una sconfitta. Non è bastata infatti la buona prestazione dei ragazzi di Mister Urbano, espulso dalla panchina nella ripresa, superati per 1-0 dagli abruzzesi, grazie alla rete siglata da Maio, ad un quarto d'ora dal triplice fischio. Chiamati a ricaricare subito le batterie, Verde Oro hanno di fronte un'altra sfida esterna impegnativa. Il Pineto è reduce da due pareggi consecutivi, il 2-2 contro la Vastese prima e lo 0-0 di Fano nell'ultimo turno. La formazione della provincia di Teramo, allenata da Mister Marco Pomante, approfitterà del favore del campo per provare a consolidare il proprio piazzamento nella zona play-off della graduatoria, dove staziona quota 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 paregge e 3 sconfitte. Sarà necessaria una grande prestazione da parte della squadra di Piedimonte, desiderosa di tornare alla vittoria fin da subito sulla scia del 3-1 rifilato alla San Benedettese domenica scorsa, risultato che entra a far parte della storia del club di patron Luigi Rega. Domani sarà fondamentale fare risultato, non solo per smuovere la classifica, ma anche perché l'ultimo mese del 2021 si prospetta per Eluasni e compagni un vero tour de force. Torneranno al Ferrante mercoledì 8 dicembre per la tredicesima di andata contro il Monte Giorgio e ancora la domenica successiva in viaggio verso Recanati. Ma testa al big match di giornata, non mancano di certo grinta e determinazione alla corazzata matesina, che è stata rinforzata con l'ufficializzazione di un nuovo innesto. Probabilmente già da domani sarà con la casacca verde-oro e il centravanti figlio d'arte Mario Giardelle Junior. Il classe 96, alto 1,92 m di nazionalità portoghese e brasiliana, sarà una valida pedina a disposizione di Mister Urbano. La società del presidente Rega e del direttore sportivo Raffaele Corsale resta attiva sul mercato. Prestissimo sarà presentato un nuovo giocatore. Tanti gli indisponibili nella trasferta di Pineto, Albanese, Riccio, Langellotti, Alfageme. Quest'ultimo infortunato e sarà ai box per un mese. Anche Mister Urbano seguirà la gara dalla tribuna per due turni. Al suo posto in panchina il vice Romagnini, dunque completamente rimaneggiata alla formazione anti-Pineto. In campo dalle 14.30 e sotto la direzione di Pietro Marangone di Udine. Del giudice a difendere i pali, probabile difesa composta dai centrali Congiu e Setola, con i terzini scacco e masi. Agiranno davanti a loro Fabiano, Tribelli, Enrico Amato ed Andreassi. Non si esclude il debutto di qualche under della Juniores. In avanti sicuramente il capitano e l'Uasni, da definire se affiancato dal neo arrivato.